L'altro, lo straniero, identità e differenza, Lectio Magistralis con il filosofo Umberto Curi. Siamo al cospetto di una società sempre più mutante, una società sempre più multietnica in cui siamo chiamati a convivere con la diversità. Come possiamo costruire una società aperta, capace di accogliere il punto di vista dell'altro? Come possono le nostre istituzioni e il diritto includere le istanze provenienti da altre culture in quella dominante? Tutto ciò si approfondirà all'Urban Center di Via Bixio con un incontro organizzato da Nuova Acropoli, Siracusa, venerdì 15 novembre alle 18 con la Giornata Mondiale della Filosofia 2024 che sancirà il graditissimo ritorno nella città reddosea di Umberto Curi, filosofo e docente merito dell'Università di Padova. Professor Curi, autore dei numerosi saggi filosofici, terrà una Lectio Magistralis dal titolo L'altro, lo straniero, identità e differenza. Interverranno Roberto Faia e Delio Cappuccio del Collegio Siciliano di Filosofia, Stefano Piazzese dell'Università di Messina e Delga Daniele di Nuova Acropoli, Siracusa, modererà l'evento Lucia Sinona. Con la presenza di Umberto Curi e grazie al suo atteso intervento, Nuova Acropoli afferma l'importanza della filosofia in azione affinché questa meravigliosa scienza che attraversa tutta la storia dell'umanità possa aiutarci a pensare, parlare e agire in modo da trasformare noi stessi e il mondo nel miglior modo possibile.